Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, eccoci di nuovo insieme per questo piccolo speciale di Natale dato che sono stato tremendamente incasinato, ho dovuto un po' abbandonare in queste settimane i miei video però eccoci qua di nuovo per una nuova bella sfida allora, ho acquistato l'Edinburg ragazzi e voglio farvi vedere come questa nave spacca i culi in maniera devastante li allarga proprio così, li allarga tantissimo ok, iniziamo abbiamo contro una flottiglia abbastanza omogenea, un po' come la nostra andiamo a vedere come va dico al mio collega Bliscavica di venire con me a darmi supporto in A anche il Sims si sta avvicinando, quindi ottimo allora, vediamo un po' come riusciamo a gestirla se i nostri... se riusciamo a salvarci le chiappiette perché purtroppo, come ben sapete, le navi questi inglesi sono abbastanza leggerine quindi bisogna starci attenti ragazzi io ho settato il mio Edinburgh come ho settato il Fiji con l'aggiunta di avere il concealment al massimo quindi come upgrade finale ho messo il concealment chiaramente e infatti ora vengo spottato a 9 km che non è male è ancora superiore a un Nozao e anche superiore a un Atago quindi ottima ho fatto l'upgrade ai siluri l'ho portati a 10 km ragazzi per avere la massima efficienza ok vediamo un po' qui se è già sicuramente un DD ha cappato vediamo un po' se riusciamo se riusciamo a farlo a pezzi comunque c'è un Atago che si sta avvicinando quindi andiamo sotto ragazzi vediamo un po' come va mi posiziono per poter attaccare pesantemente l'Atago inizio a rallentare ricordatevi sempre di rallentare perché il fumo ragazzi dura pochissimo e quindi dovete sempre rallentare iniziamo a rispondere è il primo ciccato maledetta continuiamo a rispondere questa nave ha un tiro un po' particolare quindi bisogna bisogna starci un po' attenti ragazzi perché ha una palombella un po' particolare però fate male ai incrociatori fate malissimo assolutamente si attiviamo l'idro per sicurezza visto che abbiamo contro un DD la Tago sta addoggiando pesantemente vediamo se riusciamo a fregarla questa forse la prende pesante si ottimo bene bene è stata cittadellata anche da qualcun altro ottimo perfetto e la Tago ci saluta vedo i siluri quindi andiamo in retromarcia ed è la prima ottimo così oh è uscito il man vediamo un po' se riusciamo a fargli male ha un angolo un po' strano il man e infatti lo mannaggia ciccato mannaggetta di nuovo ma guardate guardate che culo che ha questo man ciccato pesantemente e qui ho risbagliato di nuovo mannaggia questo man è proprio è impossibile da prendere vabbè il Sims ha fatto bene il suo lavoro e io abbiamo giocato come potevamo va bene via comunque va bene abbiamo tenuto A gli avversari ora sono sono in difficoltà da queste parti c'è un Hipper che si sta avvicinando c'è una North Carolina alla mia sinistra che potrebbe diventare pericolosa e esce anche una Tirpizza ragazzi non è bene questa cosa no bene allora cerchiamo di vedere di mettere un Silurino nel giusto modo allora tra 20 secondi abbiamo di nuovo il fumo quindi cerchiamo di resistere il più possibile scusate ragazzi se magari non è molto fluido il video ma non lo so devo rivedere un attimo le impostazioni ah per fortuna per fortuna ci hanno fatto un grosso favore perché il il Sims ha fatto fumo e quindi noi lo sfruttiamo assolutamente sì e andiamo nel fumo così almeno siamo al sicuro sia contro la Norca che contro la Tirpitz allora cerchiamo di chiudere questo Hipper che si è bloccato e quindi diventa gioco facile per noi vedete le cittadelle facciamo danni ma con la Fiji venivano molto più facili le cittadelle almeno a mio a mio avviso e abbiamo chiuso anche i Hipper ora cerchiamo di fare più danni possibili alla Tirpitz da questa distanza le nostre le nostre AP fanno male ragazzi allora il Hipper sembra non avere minimamente voglia di attaccare briga con noi ottimo ottimo veramente ottimo decido a questo punto di non sprecare i siluri perché lì praticamente la Tirpitz è morta è andata ed è andata infatti abbiamo qui una Norca in bella vista faccio fumo per evitare di essere focussato e intanto lanciamo i siluri vediamo come va abbiamo un'altra Norca qui vicino vediamo un po' se riusciamo a svegliarla ho deciso di non sparare per evitare di essere per evitare un blind shot almeno per il momento perché prima volevo poter lanciare i siluri lanciamo i siluri a singola fascia e mi sono accorto che la Norca sta ristringendo e quindi ora lanciamo così e ora ricominciamo a sparare ah vedete due siluri a segno sull'altra Norca ottima ottima abbiamo fatto molti danni e ci siamo presi anche la kill per floating ottimo si vede che non aveva la R carica peggio per lei abbiamo fatto un altro siluro contro la Norca e beh bene bene la Norca sta prendendo delle belle botte le nostre AP chiaramente dalla 9000 danni le nostre AP dalla breve distanza sono devastanti sono assolutamente devastanti e abbiamo un'altra Tirpitz che si fa sotto siamo già a 90.000 danni ottimo 3 siluri a segno 4 kill bene bene non male assolutamente non male vediamo un po' se riusciamo a fare più danni possibili anche anche a questa Tirpitz siamo rimasti soli ma la Bismarck sta arrivando quindi ci darà manforte oh queste si che sono delle belle partite ragazzi sono veramente divertenti ok abbiamo perso il fumo la Bismarck ci sta focussando cerchiamo di andarle di punta per minimizzare la superficie colpibile allora diamo un po' un attimo il fianco cerchiamo di eh ci ha fatto male ragazzi ci ha fatto male ci ha fatto proprio male ci ha di nuovo rifatto male eh purtroppo ve l'ho detto ragazzi eh le navi queste sono veramente leggerine bisogna stare molto 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 attenti però i nostri siluri stanno andando bene molto bene benissimo e vai è andata un'altra kill e abbiamo preso il Kraken ragazzi ottimo ottimo per fortuna la cittadella non è le cittadelle che abbiamo subito non sono state letali abbiamo siamo riusciti a ripristinare molta vita e niente c'è un Hipper che si avvicina vediamo un po' se riusciamo a a tenerlo a bada siamo già 124 mila danni tutto rispetto per una nave del genere assolutamente si la partita è andata veramente alla grande veramente alla grande questi il modo di giocare di queste navi è stupendo non si può dire di più a questa nave era da un po' che non facevo il Kraken ragazzi perché era da un po' effettivamente sono contento veramente contento di risultare anche perché è stato un Kraken più che meritato con una partita veramente stupenda allora vediamo se questi Hipper riusciamo a fargli male ah gli stiamo si gli stiamo facendo male non benissimo ma anche lui è molto angolato contro di noi vediamo se lo chiudiamo chiuso e vai alla grande ragazzi allora per fortuna la partita è veramente veramente bene ora non ho vi dico il risultato ma poi l'ho postato sul gruppo di Facebook di World of Warships se volete andare a vedere praticamente sono arrivato secondo non so come mai ma evidentemente è arrivato primo ma per 200 punti in più di me il il Sims evidentemente avrà avuto uno o due cappe in più di me o forse ha fatto qualche danno in più comunque siamo arrivati i secondi partita stupenda questa nave è bellissima la preferisco il Fiji devo essere sincero perché mi sono trovato meglio con le AP le ho viste AP più precise e cittadelle più più aggressive con l'Edinburgh si fa un po' più danno bianco però dice la sua i siluri a 10 km fanno una differenza l'essere spottati a 9 km un'ulteriore differenza e niente ragazzi spero che vi siate divertiti mettete un bel mi piace al video io questo sarà l'ultimo video che faccio prima di Natale quindi vi auguro buone feste felice anno nuovo buona epifania e ci vediamo dopo ciao a tutti